Benvenuti, ben ritrovati, ritorniamo oggi su una questione di cui vi abbiamo parlato ieri, la trattiamo come notizia del giorno perché la approfondiamo appunto. Ho in studio l'Avvocato Michele Guitta che sta seguendo questa vicenda per conto di diversi cittadini del Trapanese, eccolo qua inquadrato, grazie Avvocato per essere qui in studio con noi. Parliamo della questione legata alle case ritenute abusive perché sorte negli anni passati all'interno della fascia di inedificabilità, quindi 150 metri circa della battigia. Ieri vi abbiamo dato la notizia che il CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ha ritenuto opportuno fare intervenire la Corte Costituzionale in merito alla vicenda di alcuni cittadini marsalesi che hanno la casa a Marausa. Questa possibilità apre ovviamente le speranze di diversi altri cittadini, non solo della provincia di Trapani ma un po' di tutta la Sicilia. Vediamo di capirne un po' di più in questo spazio di telegiornale proprio con l'Avvocato Michele Guitta. Allora, vediamo di condensare. Che significa quello che sta probabilmente succedendo? Significa che finalmente un giudice dopo quasi 20 anni di giurisprudenza consolidata sulla materia, ha ritenuto di voler demandare alla consulta la questione centrale degli abusivi, dei cosiddetti abusivi dei 150 metri, ovvero della legittimità costituzionale della legge del 1991 che ha negli anni scorsi destabilizzato la questione. Dopo oltre 20 anni di giurisprudenza consolidata che negavano la questione, legavano la questione di costituzionalità, io e colleghi prima di me per anni è stata sollevata la questione e mai è stata rimessa la questione della Corte Costituzionale. Il CGA da dicembre a gennaio in diverse sentenze del CGA, parliamo di sezione Palermo, quindi che ha giurisdizione sul Tar Palermo, quindi Palermo-Trapani-Agrigento per capirci, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, perché dobbiamo ricordare che il giudice del CGA fa una prima valutazione sulla manifesta fondatezza o meno della questione. Se la ritiene non manifestamente infondata, quindi c'è un primo filtro, ritiene di approfondire. Cosa succederà adesso? Che si aspetta da dicembre a gennaio, tutte le sentenze dove si è profilata questa possibilità, si aspetta l'ordinanza del giudice del CGA che redigerà il suo provvedimento dove ritiene che ci sia questa questione da attenzionare alla Corte Costituzionale e la notificherà a tutte le parti e sarà pubblicata in gazzetta ufficiale e dopodiché si attiverà il liter del giudizio avanti la Corte Costituzionale. Ma davvero questi cittadini possono sperare di vedere, cambiare le cose per come stanno oggi? Allora, la Corte Costituzionale è il punto finale di questa vicenda, perché allora quando si pronuncerà la Corte Costituzionale si capirà se effettivamente la normativa è stata corretta l'interpretazione data fino ad oggi o meno. Dobbiamo precisare per correttezza che la pronuncia della Corte Costituzionale avrà effetti nei confronti di coloro che avranno situazioni ormai non ancora definite, quindi parliamo di soggetti che hanno ancora giudizi pendenti, che hanno impugnato i vari atti, non parliamo di soggetti che hanno avuto acquisito definitivamente l'immobile ed è entrato nel patrimonio del Comune. Per tutti coloro che invece hanno posizioni pendenti, la sentenza della Corte spiegherà effetto e, ipotizzando una visione dal nostro punto di vista ottimistica, potrebbe rimettere in gioco tutte le questioni di tutti gli immobili. Però così a occhio mi sembra di capire che chi ormai ha avuto il requisito, la casa si sarà acquisita appunto al patrimonio comunale e hanno semplicemente perso parte della loro vita perché non sono arrivati in tempo, una cosa del genere, due pesi e due misure. Purtroppo così è, perché la Corte Costituzionale quando interverrà avrà effetto su chi non ha posizioni definite o conclamate, purtroppo interviene dopo vent'anni. Dove dobbiamo considerare una cosa, che le sanatorie dell'85 non sono state lavorate per oltre sei anni, fino al 91, fino a quando il 91 interviene la nuova normativa, quindi sono rimaste le cassette delle pubbliche amministrazioni. Quando nel 91 interviene una legge che chiarisce il significato della legge del 76, lì si apre la fase della giurisdizione, cioè i giudici intervengono a dare la corretta interpretazione di questa norma e questa interpretazione è durata fino a dicembre tutta sulla stessa linea. Ormai appunto andiamo alla chiusura di questa sezione della Tg, aspettiamo appunto di leggere il contenuto dell'ordinanza che rimette un po' tutto nelle mani della Corte Costituzionale, seguiremo la vicenda anche grazie all'Avvocato Michele Guitta e agli iscritti all'Associazione a Casa che da tempo si occupa di questa vicenda e bene daremo conto poi quando sarà il caso. Intanto grazie Avvocato per questo breve approfondimento sulla questione, doveroso parte nostra informare appunto i cittadini sui risvolti possibili che ci potranno essere. Il resto delle notizie tra poco. I titoli di questa edizione ZES, il consiglio approva, passo avanti ieri sera per le zone economiche speciali della Sicilia occidentale ma il Movimento 5 Stelle esprime forti perplessità sull'impatto ambientale. La memoria senza tempo, a Erice stamattina ricordati 5 cittadini sopravvissuti ai campi di concentramento e alle barbarie naziste. Capitale del libro, Rush finale. Domani le audizioni con il Ministero della Cultura, la città di Trapani spera di ottenere l'ambito riconoscimento. Settimana Santa, conto alla rovescia, in casa Unione Maestranze proseguono i lavori in corso in vista del tradizionale rito delle scinnute il cui calendario è stato già ufficializzato. Poi per lo sport il punto sulle minori con la consueta rubrica Linea Ditta, la rubrica del martedì curata proprio da Mirko Ditta. Nell'approfondimento ritorneremo sulla questione delle ZES con in studio il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Ma intanto, prima ancora di andare a vedere cosa è successo ieri sera in Consiglio Comunale, una notizia proprio che è arrivata in questi ultimi minuti, prima di andare in diretta, quindi poi la approfondiremo nel corso della giornata, la leggerete sul nostro sito web e poi stasera nella seconda edizione del Tg, nell'edizione serale. È stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nei comuni di Trapani e di Erice. Questo per quanto riguarda il deputato regionale Dario Safina, che come sapete è stato accusato di corruzione di turbativa tasta. Nei giorni scorsi si è tenuto l'interrogatorio davanti alla GIP del Tribunale di Trapani. Il dottore Samuele Corso, Dario Safina, ha risposto a tutte le domande, ha presentato una memoria difensiva. Oggi arriva proprio in questi minuti la notizia della decisione del GIP che ha revocato gli arresti domiciliari concedendo solo l'obbligo di dimora nei comuni di Trapani e di Erice. Abbiamo sentito gli avvocati, uno dei due, l'avvocato Giuseppe Rando, ci dichiara che non siamo soddisfatti, dice appunto il legale, di questo provvedimento in quanto riteniamo insussistenti le necessità della misura cautelare così come restiamo fermamente convinti dell'insussistenza delle accuse. Ripeto, la notizia è arrivata poco fa, la approfondiremo nel corso della giornata. La novità appunto è che non è più ai domiciliari ma adesso gli è stato dato l'obbligo di dimora nei comuni di Trapani e di Erice. Parliamo questo del deputato regionale Dario Safina. Ma andiamo all'approvazione del parere urbanistico per la realizzazione della strada di accessibilità al porto e all'area industriale di Trapani. Ieri sera appunto il Consiglio Comunale ha dato parere favorevole per quanto riguarda questa novità sulle ZES, zone economiche speciali della Sicilia occidentale. C'è però l'onorevole Cristina Ciminisi, deputato regionale del Movimento 5 Stelle che esprime perplessità e ha annunciato una interrogazione parlamentare. È stato approvato a maggioranza ieri sera al Consiglio Comunale il parere urbanistico per la realizzazione della strada di accessibilità al porto e area industriale di Trapani. L'inizio dei lavori è stato stabilito per la metà di febbraio e saranno completati nel 2026. Sulla questione questa mattina è intervenuta l'onorevole Cristina Ciminisi che ha annunciato un'interrogazione. Il sindaco Tranchida, detto la deputata del Movimento 5 Stelle, dovrebbe farci sapere come intende tutelare le ex saline che possono salvare Trapani dalle alluvioni e sono necessarie per mantenere il già precario assetto idrogeologico della città. Se non si vorrà continuare a pagare nel futuro danni per le alluvioni, la regione siciliana per prima dovrebbe vigilare con più attenzione sulla pianificazione della città. Il sindaco Tranchida invece dovrebbe attivarsi per la revisione del piano assetto idrogeologico, visto che le aree in questione, interessate da diverse forme di urbanizzazione, sono un naturale bacino di assorbimento delle acque piovane e per questo andrebbero salvaguardate. Comprendiamo gli interessi legittimi dei privati e la proiezione di sviluppo economico e infrastrutturale delle ZES, conclude la deputata regionale, ma vorremmo fossero contemperati all'interesse pubblico dei trapanesi. La regione promuova un sopralluogo nella zona dell'ex saline modica e collegio avvalendosi di tecnici specializzati in materia di zone umide e lagunari e anche dell'autorità di bacino per valutare le implicazioni idrogeologiche della zona. E non per ultimo valuti la riperimetrazione della rete Natura 2000 per garantire un'effettiva tutela naturalistica dell'area e una corretta valutazione delle conseguenze ambientali di interventi presenti e futuri su un'area strategica anche per la tenuta idraulica della città. Ispezioni nelle gallerie sulla autostrada 19 a 29 previste anche delle chiusure. Vediamo di che si tratta in questo servizio. Durante le prossime notti saranno eseguite le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie della rete ANAS. In particolare nel tratto dell'autostrada 19 Palermo-Catania compreso tra Termini Merese e Trabia saranno sottoposte a ispezioni le gallerie denominate 20 Miglia, Cameccia 1, Cameccia 2 e Termini Merese, mentre nel tratto dell'autostrada 29 direzione Alcamo-Trapani tra Dattilo e Fulgatore sarà sottoposta a ispezione la galleria Fumosa. Le ispezioni prevedono rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati. Nello specifico nelle notti di martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, in fascia oraria compresa tra l'ore 22 e le 6 del mattino successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dell'A19 tra lo svincolo Termini Merese e lo svincolo di Trabia. Durante le notti di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio nella medesima fascia oraria sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Catania dell'A19 tra gli svincoli di Trabia e Termini Merese. Durante la sola notte tra sabato 3 e domenica 4 febbraio sarà chiusa la carreggiata in direzione Trapani dell'A29 direzione tra lo svincolo di Fulgatore e lo svincolo di Dattilo. Infine, durante la sola notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio sarà chiusa la carreggiata in direzione Alcamo dell'A29 direzione tra lo svincolo di Dattilo e lo svincolo di Fulgatore. In tutti i casi il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113 settentrionale Sicula. Continuiamo con la cronaca. Laura Bonafede resta in carcere per la Cassazione. Può aiutare ancora chi coprì la latitanza di Matteo Messina Denaro. Vediamo il servizio. Depositate dalla Cassazione le motivazioni del respingimento del ricorso del Tribunale del riesame alla richiesta di scarcerazione per la maestra e Laura Bonafede accusata di aver agevolato la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Secondo gli armellini i rapporti tra la maestra e il capo mafia di Castelvetrano non erano solamente di natura personale ma coinvolgevano dinamiche associative. La corte ha evidenziato il ruolo attivo di Bonafede che avrebbe fatto da costante tramite per l'esterno dei messaggi del boss rendendo possibile ed anche più agevole la veicolazione dei suoi ordini e indicazioni ai solidali mafiosi in libertà così evitandogli di esporsi in prima persona o comunque riducendone notevolmente la necessità. La sentenza della Suprema Corte ha evidenziato il rischio di compromettere le indagini in corso, in particolare quelle relative all'individuazione degli altri fiancheggiatori. Bonafede potrebbe comunicare con terze persone e questo potrebbe mettere a rischio l'efficacia delle indagini e portare alla reiterazione del reato da parte di individui ancora sconosciuti che hanno aiutato il boss stragista a sottrarsi a condanne in misura cautelaria per 30 anni. Laura Bonafede, arrestata dal ROS il 13 maggio scorso, è moglie di un ergastolano, figlia del capo mafia di Campobello di Mazzara Leonardo Bonafede, ormai deceduto, nonché cugina di Andrea ed Emanuele Bonafede, il primo che fornì l'alias per l'identità falsa, l'altro indicato come il postino dell'ex superlatitante. Questa mattina il Comune di Erice ha ricordato 5 cittadini sopravvissuti ai campi di concentramento e questo in occasione dell'evento denominato Memorie di Inciampa. Salvatore Bonfiglio, Gioacchino D'Angelo, Leonardo Genco, Mario Guarano e Francesco Valfré. Sono loro i 5 cittadini e ricini sopravvissuti ai campi di concentramento che sono stati ricordati questa mattina a Napola in occasione dell'evento Memorie di Inciampo. La prima pietra di Inciampo fu posta a Colonia e poi si è sparsa per coltivare la memoria diffusa in tutta Europa, in quei paesi che hanno subito l'occupazione nazista. Abbiamo iniziato da Napola con la collaborazione di tante associazioni. Queste pietre di Inciampo vengono collocate dinanzi all'ultima abitazione della persona che è stata deportata. In questo caso noi ricordiamo coloro che sono stati insegniti della medaglia d'onore dalle varie prefetture competenti. Quindi un'iniziativa importante per le nuove generazioni, una testimonianza vera. Tra l'altro qui abbiamo il signor Francesco Domingo che fu deportato in un campo di concentramento a confine tra la Francia e la Germania. Ringraziamo anche tutti i familiari che sono presenti quest'oggi. Il nostro obiettivo è quello di continuare negli anni a venire con altre testimonianze di queste persone che sono state cittadine di Cini. Al centro polifunzionale Giuseppina Cammarata era presente anche Francesco Domingo, sopravvissuto alle barbarie naziste, che ha ricordato quel periodo agli studenti. A testimoniare c'era anche il giornalista Franco Camarasana, che ha raccontato la vita del cugino. Sono stati deportati, hanno servito l'Italia, hanno sofferto tantissimo e poi magari sono rientrati in Italia. Chi è rientrato in Italia? Molti invece purtroppo non sono rientrati. Per quanto riguarda un mio cugino, si chiamava come me, Francesco Cammarasana, poi le vicende lo hanno portato ad immigrare in Canada. Adesso ci sono ancora tre figli affermatissimi, chi fa l'insegnata, chi l'imprenditore, chi l'architetto. Anche loro hanno conservato le radici italiane, cercano sempre anche di tremandare i loro figli i valori di questa loro italianità, di questa appartenenza alla terra di Sicilia, soprattutto, tant'è vero quando possono, vengono. Per il papà, che purtroppo non c'è più, hanno una devozione particolare e vengono qua appunto per ritornare sui luoghi che hanno visto il papà lavorare e soffrire tanto. Tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco informativo. Beh, adesso parleremo di questa attesa per la nomination di Trapani a Capitale Nazionale del Libro. Domani c'è l'audizione al Ministero della Cultura. A proposito di cultura, alla Settimana Santa, siamo al conto della rovescia per quanto riguarda l'inizio delle scinnute e poi via via verso lo sport con soprattutto la rubrica di Mirco Ditta, linea ditta, che fa il punto sulle minori del calcio regionale. Ma intanto andiamo a vedere la città di Trapani che inlizza assieme ad altre cinque città italiane per ottenere il titolo di Capitale Nazionale del Libro 2024. Trapani, unica città siciliana tra le finaliste per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2024, si prepara per le audizioni in videoconferenza con il Ministero della Cultura il 31 gennaio alle 9.30, direttamente dalla suggestiva sala lettura della Biblioteca Fardelliana. L'audizione sarà presieduta dal sindaco Giacomo Tranchida, affiancato dall'assessore alla cultura Rosalia Dalì e dal progettista del dossier di candidatura Federico Costanza. L'assessore regionale beni culturali Francesco Paolo Scarpinato esprime orgoglio per l'inclusione di Trapani tra le finaliste, sottolineando come questo sia un segno tangibile della ricchezza culturale e dell'impegno del territorio per la promozione della letteratura e della conoscenza. La provincia di Trapani ha già ottenuto importanti riconoscimenti con nove comuni che hanno ricevuto la qualifica di città che legge 2022-2023, dal Centro Nazionale per il Libro e la Letteratura, grazie all'operato della soprintendenza per i beni culturali ma anche della rete bibliotecaria Bibliotrapani. Le altre città finaliste sono Grottaferrata nel Lazio, San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Tauria Nova in Calabria e Tito in Basilicata. La commissione del Ministero della Cultura dovrebbe proclamare la città vincitrice entro febbraio, assegnando alla Capitale del Libro 2024 un contributo di 500 mila euro per progetti culturali. Al via la sesta edizione del premio letterario Città di Erice, istituita la sessione giovani dedicata proprio agli studenti. È in piena fase di svolgimento l'organizzazione del sesto premio letterario Città di Erice, promosso dall'Associazione Vivere Erice, con il patrocinio del Comuna. Il premio, come ogni anno, verrà assegnato l'ultima domenica di agosto al Teatro Gebel Ahmed di Erice. Da quest'anno il premio a un nuovo regolamento è stato costituito un comitato ristretto di giornalisti, scrittori e lettori forti che, insieme ad alcune librerie, ha selezionato otto libri che concorreranno al premio. Gli otto libri selezionati dal comitato saranno letti da una giuria composta da 24 lettori che hanno aderito con grande partecipazione, avendo come punto di riferimento la libreria del corso di Teresa Stefanetti, che supporta gli organizzatori. La giuria, al lavoro da questi giorni, avrà il compito di scegliere tre libri finalisti che successivamente verranno sottoposti al giudizio di una giuria di qualità. Quest'anno il premio letterario si arricchisce di una nuova sezione interamente dedicata agli studenti. Coinvolgendo le scuole di Trapani ed Erice è stato istituito il premio giovani per avvicinare i ragazzi alla lettura. A tal fine l'associazione Vivere Erice ha stipulato convenzioni con il liceo classico e scientifico Ximenes Fardella, il liceo gastronomico Ignazio e Vincenzo Florio di Erice e il liceo linguistico Rosina Salvo. I ragazzi avranno il compito di leggere e commentare cinque racconti o romanzi brevi, scelti dal comitato ristretto che trattano sempre temi legati alla Sicilia. Questa attività sarà affiancata da incontri e dibattiti. La giuria giovani voterà il libro vincitore. Il coetone sarà premiato dagli studenti nella giornata finale il 25 agosto. Conto alla rovescia per la settimana santa trapanese. Lavoro in corso in casa Unione Maestranze che nei giorni scorsi ha ufficializzato il calendario delle scinnute. Mancano esattamente 56 giorni all'inizio delle processioni della settimana santa a Trapani. Sarà la madre petate massaria ad aprire riti della settimana più sentita da parte dei trapanesi che in maniera coinvolgente accompagneranno i sagri gruppi dei misteri dall'uscita del venerdì santo fino all'entrata del giorno dopo il sabato santo. Iniziano a farsi frenetici i giorni tra le maestranze. Domenica mattina infatti presso la sede istituzionale dell'Unione Maestranze si è tenuta un'assemblea. Tra i temi trattati l'organizzazione della prossima settimana santa. Soddisfazione da parte del presidente Giovannello D'Aleo che ha sottolineato l'armonia con cui si è svolto l'incontro specificando che la settimana santa trapanese sarà presente alla BIT di Milano e a rappresentarla ci sarà l'avvocato Natale Pietrafitta. Intanto nei giorni scorsi sono stati svelati i manifesti della settimana santa e dei scinnuti. Anche quest'anno il sacro rito dei scinnuti sarà ufficiato per tutte le sacre rappresentazioni scultore della processione dei misteri e per le due sacre immagini rafficuranti la Madre Pietà. Le funzioni religiose si svolgeranno ogni martedì e venerdì a partire dal 16 febbraio e termineranno venerdì 22 marzo fatta eccezione per la Madre Pietà dei Massari che sarà lunedì 18 marzo e la Madre Pietà del Popolo che si svolgerà mercoledì 20 marzo. Ci è attesa dunque per conoscere l'itinerario della processione dei misteri già deliberato dall'Assemblea dell'Unione Maestranze e quello delle due immagini delle Madre Pietà. Per gli appuntamenti su Tele Sud stasera programmazione dedicata allo sport alle 20.30 infatti trasmetteremo l'incontro molto ad alta tensione fra la Trapani Shark e Luis Roma incontro appunto che si è tenuto domenica, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Alle 23 invece spazio alla Pallamano con la vittoria della Handball Erice e Teramo e quindi stasera per forza dovete stare con noi perché sono due begli incontri che vale la pena rivedere per chi è stato appunto nei due palazzetti o vedere per la prima volta per chi se li è persi live. Ci fermiamo e tra poco lo sport. Ed è già vigilia di campionato per il Trapani Calcio che domani sarà impegnato sul campo del Real Casalnuovo per il turno infrasettimanale di campionato. Intanto la società Granata ha comunicato che la partita di domenica prossima 4 febbraio contro il Canicattì al Provinciale si giocherà alle 15.30 quindi un'ora dopo l'orario standard. Da oggi si comunica che è aperta anche la vendita dei biglietti per l'incontro di domenica prossima. E adesso la linea va a Mirco Ditta con la rubrica Linea Ditta. Parleremo del Mazzara che si riprende con una grande vittoria sul campo del Castelbuono. In promozione invece il San Vito vince 3-0 a Tavolino. Valderic e Alcamo 1928 provano a tenere il passo della prima classifica in prima categoria. Questo e non solo con Linea Ditta. Campionato riaperto si potrebbe dire di sì. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Linea Ditta. Il riferimento d'esordio di questo nuovo appuntamento è al campionato di eccellenza perché nello scontro diretto tra Nissa e Profavara a vincere sono stati proprio gli ospiti per 2-1. Quindi distacco di tre punti. Cosa è successo poi nella domenica di eccellenza? Il Mazzara 46 non è andato oltre lo 0-0 contro l'Accademia che quindi torna a casa con un buon butto che può fare da morale. Bene soprattutto per i trapanesi Mistretta. Bravo a neutralizzare un calcio di rigore. Ma sempre più in salute il Castellammare che vince nell'anticipo per 5-0 contro il Casteldaccia. In un golo sono andati Tarantino, Calagna, doppietta Dibba e Caronia. Per quanto riguarda invece quella che è stata la domenica quindi come detto oltre al pareggio tra Mazzara 46 e Accademia Trapani arriva quello che è il dodicesimo pareggio in 19 partite per la Folgore Castelvetrano che nonostante l'iniziale svantaggio contro l'ultima in classifica Aspra ha poi rimontato grazie al gol di Bilel. Stesso punteggio invece tra Fulgatore e Marineo. Non basta il gol iniziale da parte di Totti Stabile a trovare tre punti per la squadra di Mister e Marino però la copertina di questa domenica di eccellenza va tutto per il Mazzara perché dopo dieci turni di fila senza vittorie i Canarini vincono in trasferta sul campo del super giovane Castelbuono grazie ai gol di Ciancimino, Martel, Espino e Casabala. Andiamo a vedere la classifica d'eccellenza quindi come varia perché la Nissa trova la prima sconfitta in campionato quindi 52 punti e si rifà sotto il Profavara a 49. chiaramente poi molto più distaccato il Mazzara 46 che non fa valere il valore, il fattore campo e poi la 32 c'è il sorpasso del Castellammare proprio sul Castelbuono fermato dal Mazzara che non è più quindi ultimo in classifica proprio lasciato l'ultimo posto all'Aspra e a 13 punti c'è anche il Fulgatore a 17 quindi sempre in proiezione dei play-out c'è l'Accademia Trapani e poco più distante a 21 la Folgore scendiamo di categoria perché in promozione altra brutta pagina del calcio dilettantistico la partita tra San Vitolo Capo e Ricca Renze si è conclusa al 31esimo del primo tempo quando i sanvitesi conducevano per 3-0 gli ospiti palermitani si erano presentati in 7 poi dopo al 31esimo un infortunio per così dire ha sospeso la gara 3-0 con i padroni di casa che si erano portati in vantaggio con Cannavò poi il raddoppio di Alessio Barbara e un autorete di Cannatella nel derby invece tra Alba Alcamo e Marsala che si è giocato a Castellammare gli azzurri proseguono nella propria striscia positiva di risultati andando a vincere proprio 2-0 grazie ai gol di Marchese alla mezz'ora e al 67esimo con gli annotti quindi attenzione all'Alba Alcamo perché arriva da 5 turni senza vittoria classifica per una classifica che vede sempre più al primo posto il San Giorgio Piana con 38 punti poi il San Vitolo Capo a 33 occhio sempre più al Marsala a 30 punti e poi ancora più in giù l'Alba Alcamo che rischia di essere risucchiata nella lotta per i play-out concludiamo con la prima categoria perché il Valderice prova a tenere il passo del Regina Mundi che ha vinto 1-0 sul campo dello Sporto Palermo ma bravi anche i Valdericini a vincere a Camporeale grazie alla doppietta 3-1 di Bruno Scipiglia e poi la firma di Luciano Parisi solo un pareggio tra Belice Sporto e Cussonacci 0-0 grande spettacolo invece a Terrasini tra Renzo Lopiccolo e l'Alcamo 1928 bravi bianconeri ad ipotecare il successo già nel corso del primo tempo grazie ai tre gol di Lomonaco in Peduglia e Giacalone poi ci ha pensato Terranova nella ripresa a fissare il momentaneo 4-1 buona la prima del ritorno da parte di Walter Figuccio sulla panchina del Salemi che vince abbastanza anche agevolmente 3-0 contro l'altretico Marsala grazie ai gol di Blunda, Orlando e Scimemi per una classifica che dice questo dopo 17 giornate al primo posto c'è il Regina Mundi a 43 poi a 37 il Valderice poco sotto a 35 l'Alcamo 1928 il Belice Sporto a 31 punti appaiato con lo Sport Palermo risale la china il Salemi dopo questa convincente vittoria anche se si tratta contro l'atletico Marsala sempre ultimo a meno un punto e poi resta in una situazione di diciamo di un pass il Custonaci e il Primavera Marsala che ha perso in casa quindi questo il quadro dall'eccellenza alla prima categoria al termine di questo mese di gennaio del nuovo anno del 2024 chiaramente noi ci ritroviamo qui la prossima settimana sempre con linea ditta Ed eccoci qua con la sezione dell'approfondimento parliamo di zone economiche speciali per la Sicilia occidentale ci riferiamo al territorio trapanese perché proprio ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il Consiglio Comunale di Trapani ovviamente ha approvato il parere urbanistico per la realizzazione della strada di accessibilità al porto e all'area industriale di Trapani che rientra appunto nel progetto della zona economica speciale ne parliamo con il sindaco del capoluogo Giacomo Tranchida benvenuto sindaco e grazie per la presenza Buongiorno a voi Dunque questa non è una novità diciamo così perché lo sapevamo lo aspettavamo ma adesso abbiamo un passo concreto in avanti è un'operazione strategica che nel tempo abbiamo realizzato candidato Trapani grazie al lavoro che ha fatto al tempo l'assessore Patti l'assessore Safina grazie anche a un'attenzione vigile dell'assessore regionale Turano che ha le infrastrutture è un cavallo di Troia per Trapani da un lato l'escavazione dei fondali il porto ritornerà in auce dall'altro le strade di collegamento dedicate ultimo miglio proprio a servizio del porto sta seguendo la cosa l'assessore Pellegrino ieri sera la svolta l'ok per la variante metà febbraio iniziano i lavori e questo che significa? questo significa che ci sarà ovviamente qualche problema la colpa sarà del sindaco c'è qualche problema questa con le altre significa intanto questa grande rotonda tra l'incrocio di via Salemi l'incrocio semaforico e lo scorrimento veloce la nuova strada che verrà realizzata con un cavolcavia una serie di rotonde per differenziare il traffico automobilistico da quello invece commerciale mercantile che riunirà il molo di ronciglio significa anche un'altra cosa noi vediamo qua proprio la piantina dei lavori che saranno realizzati significa anche un'altra cosa una mano d'aiuto alla città sono stati i bravi tecnici dello staff del professor Amenta e l'ingegnere Messina in modo particolare che li coordina perché hanno recepito le indicazioni che io con l'amministrazione e il nostro ufficio abbiamo dato circa la realizzazione anche di canali diciamo di smaltimento delle acque piovane si tranquida questo pallino si tranquida il pallino di ricostruire il sistema di smaltimento naturale delle acque che mi scendono da monte bene bene questo qua mi piace era appunto un pallino tra virgolette insomma un pallino una delle opere strategiche che l'altro dobbiamo farlo con ferrovie evidenziato appunto e adesso stiamo arrivandoci l'altro lo faremo con ferrovie come smaltimento delle acque ma a parte questo oggi il porto di Trapani candidato a ritornare in Auce dunque significa economia sviluppo eccetera significa lavoro significa occupazione ospiterà un traffico un'entrata enorme allora la battaglia politica che io sto facendo con la mia maggioranza anzi per inciso mi dispiace che ieri sera l'opposizione sia scappata dall'aula e altri sono astennuti non ho capito qual è il loro interesse per questa città comunque pazienza la battaglia strategica è quella di dire allo Stato e all'ANAS pigliati adesso poi la gestione dello scorrimento veloce in che senso? sì perché non può ricadere sui cittadini trapanesi e sulle tasse trapanesi le spese di manutenzione atteso che questa diventa un'infrastruttura di interesse nazionale io qua vedo appunto il riserzionamento e il modernamento di parte della via libica vuoi spiegare che significa un po' lo ha accennato ma se poi riusciamo ad andare a me lo stesso faremo una differenziazione della viabilità una cosa è traffico civile altra cosa è traffico commerciale trapanesi invece era una specie di imbuto insomma dove di tutte di più in tutte le città europee dove ci stanno i porti c'è una viabilità dedicata al traffico civile e una al traffico commerciale così diverrà anche la viabilità prossima avventura per raggiungere da e per il porto di Trapani che servirà a mezzo a Sicilia occidentale dunque sviluppo di traffico di merci non solo di persone e dunque economia e sviluppo e occupazione di cui c'è bisogno in questo territorio 17 milioni 800 mila euro di finanziamento sono un fondo delle PNRR ovvio che l'ente in questo caso beneficiario è la ZES ma di fatto è il comune di Trapani che l'ha candidata così come per il porto a me non interessa mettere più di tanto le medagliette però le cose che in 50 anni non si potevano fare non sono state fatte noi a poco a poco le stiamo facendo in questa città verificheremo ovviamente come quando e come proseguiranno i lavori intanto ringrazio il Sindaco di Trapani per essere venuto qui in studio a darci appunto le ultime novità su una parte importante del nuovo assetto della città di Trapani che comprende appunto la zona economica speciale grazie Sindaco e buon lavoro grazie a voi grazie a voi per averci seguiti grazie a voi grazie a voi